Squadre in campo intorno alle 13, nonostante le righe sgomber dal manto bianco appare palese la sensazione del rinvio. I giocatori raccolti in cerchio si scambiano battute, si comincia a pensare alla possibile data del recupero. Il regolamento Lega Pro prevede che gli incontri rinviati nel girone di andata vengano recuperati all'interno dello stesso, sempre che ci siano date disponibili, altrimenti si può procedere con un accordo tra le due società. Il terreno dell'Olimpico in queste condizioni naturalmente non permette il regolare svolgimento dell'incontro, esattamente alle 13.45 il direttore di gara ha dato il comunicato ufficiale, non si gioca San Marino, Ferralpi, Salò, si discute invece su quella che sarà la data di recupero di questa partita, la curiosità è che l'arbitro non ha neanche effettuato la prassi di entrare in campo con il pallone e farlo rimbalzare. Bisognava forse pensarci prima, nel senso di riuscire a avere la capacità questa mattina di riuscire magari a spalarlo con buona volontà. C'è la regola però che se nevica entro le 24 ore la società è scagionata? Assolutamente sì, ho parlato proprio di volontà di volerlo fare, di poter spalare, perché con questo caldo, con questo sole, secondo me se fosse rimasto dallo strato di nevischi sopra, con questo sole andava via, per cui era solo una questione di volontà. Avete già un'idea su quello che potrebbe essere il recupero? Noi ho parlato con il mister Accorri, non siamo d'accordo, non c'è problema sulla data, la data giusta è proprio verso il 22 quando c'è una sorta di gennaio. Le condizioni le vedete tutte, non si può fare una partita di calcio in queste condizioni e adesso vedremo quando si potrà recuperare. Se arrivava dalla battuta di arresto di Trapani è un vantaggio o non svantaggio non giocare oggi? No, noi avevamo tanta voglia di giocare per rifarsi anche dalla partita di Trapani, però ci devono essere condizioni per giocare a calcio, non sarebbe stata una partita regolare. Intorno alle 14 il direttore di gara Andrea Morreale di Roma lascia lo stadio insieme ai suoi collaboratori e alle delegato.